professional buonasera il diavolo live diretta maglia germani Z che roba è lì dietro è venuto fuori questo blu nero dietro di te mi devono santificare è già laureola dopo due mesi in casa ciao Max ciao Vincenzo ragazzi vediamo ufficialmente perché come avete visto è arrivato Vincenzino Esposito è arrivato soprannominato il diablo so che tutti voi l'aspettavate io lo lascio nelle sapienti mani di Saba che è il nostro conoscete tutti il nostro preparatore atletico delle giovanili che ve lo presenta sono molto contento che vi siate collegati tutti anche a quest'ora Vincenzino è una leggenda per Imola magari era il mio idolo quando giocava a Imola quindi sono molto contento è stato il primo italiano che ha giocato in NBA quindi stasera avete una bellissima opportunità di ascoltare questo personaggio che è famosissimo magari qualcuno di voi quelli più piccoli giustamente hanno bisogno che vi venga un po' raccontato giustamente non c'è miglior persona che il prof Saba che coach Saba per raccontarvelo quindi vi auguro un buonissimo a tu per tu e lascio la parola a Saba grazie grazie per l'introduzione Max sono un po' preoccupato perché adesso vedo lì sotto 83 partecipanti e quindi è una roba impegnativa eri molto atteso Vincenzino eri molto atteso allora Vincenzo come come chiaramente non poteva essere altrimenti è un ospite di super riguardo di queste belle trasmissioni che sta facendo l'international basket per per i ragazzi per i nostri giovani e soprattutto per i giovanissimi introdurre Vincenzo in questa trasmissione per me è un onore perché Vincenzo è stato un campione di assoluta levatura e un grandissimo personaggio nel mondo della pallacanestro quando Max mi ha informato che c'era Vincenzo io ho pensato che sarebbe io gli ho detto assolutamente è una delle due o tre interviste migliori che puoi fare in Italia e di questo sono assolutamente convinto Max aveva degli altri dubbi voleva le scalette voleva questo così io ho detto no Vincenzo è un one man show è un uomo che fa spettacolo da solo e la storia di Vincenzo è proprio questa è un uomo di grande spettacolo sia sia in campo sia nelle relazioni umane e personali e sia nel mestiere che sta facendo adesso con grande successo e grande e grande proiezione futura che è quello che è quello dell'allenatore la nostra conoscenza di Vincenzo con quel come è arrivato a Imola bisogna tornare indietro di 20 anni di 25 anni esattamente ho chiesto adesso cioè il 98 mi hanno detto esatto la stagione 98-99 certo certo però scusa Marco se ti interrompo però quando parliamo di Vincenzo parliamo della storia del basket italiano degli ultimi 30 anni quindi su tutti i fronti oltre che giocatore di talento squisito forse il più gran talento che l'Italia ha avuto tant'è che è stato il primo ad andare nell'NBA come tu hai detto qui parliamo anche di una persona di un uomo di un grande cuore qui in campo io ricordo i tre anni che ha fatto con me ha sempre dato tutto in qualsiasi partita in qualsiasi non si è mai tirato indietro sia che la partita era una finale era un playoff oppure una partita di allenamento tant'è che ricordo che anche negli allenamenti Zed perché i ragazzi devono sapere che insomma ho passato parecchie ore a lavorare sia con Sabba che con te anche a termine della stagione e soprattutto ricordo anche che lui dava sempre dei consigli a tutti i ragazzi giovani che venivano a chiudere il roster della squadra ma a questo c'è da aggiungere un'altra cosa che è una persona di grande cuore a livello umano è sempre stato disponibile per qualsiasi aiuto che poteva dare alla squadra ai compagni e anche a noi dello Stato lascio Sabba continuare perché qui ragazzi veramente è la storia del basket italiano quindi per me è un'emozione avere Enzo con noi nella nostra società grazie Zed ci siamo mutati Sabba volevo puntualizzare proprio quando Enzo arrivò a Imola innanzitutto Enzo arrivò a Imola che aveva già vinto uno scudetto a 18 anni dopo ne parleranno poi Carlo attraverso delle foto e poi Enzo era già stato alla Fortitudo e aveva già infiammato Bologna a Sponda Fortitudo più era già stato in NBA addirittura primo italiano a sbarcare in NBA a Toronto ritornò dall'NBA fece un paio di stagioni a Pesaro poi arrivò a Imola fortunatamente Imola era una una società era una società che stava crescendo però il binomio cioè il fatto che arrivò a Enzo con noi fu detto velocemente facendo una sintesi di tutta questa cosa fu una cosa che alzò il livello alzò la sticella assolutamente assolutamente per tutti Enzo comunicò un'energia positiva fantastica e noi facevamo la 1 alla squadra al pubblico allo staff alla città Imola divenne immediatamente la città di Vincenzino questo binomio fu una cosa eccezionale lui con noi i ragazzi dello staff con i suoi compagni come diceva Zeta con i giocatori più giovani eccetera dimostrò una disponibilità assoluta e una leadership positiva eccezionale noi ci mettiamo immediatamente tutti al suo servizio e lui fece una cosa meravigliosa cioè ci fece crescere tutti tant'è vero che l'apice che abbiamo toccato in quei momenti non l'abbiamo più toccato e lui ha dato valore a tutti quindi è stata è stata una cosa bellissima poi ha sviluppato la sua carriera in altre fasi è ritornato anche a Imola adesso sta facendo allenatore ad altissimo livello è un grande conoscitore del basket americano degli americani a casa in America eccetera insomma è un personaggio talmente a tutto tondo talmente un tutt'uno con la palla canestro eccetera di di altissimo di altissimo livello Zeta se ho dimenticato se ho dimenticato qualcosa no io e soprattutto e soprattutto l'altra cosa ci ha deliziato con delle giocate meravigliose che in questo in questo periodo abbiamo avuto tra virgolette la fortuna di rivedere ma sono state ancora cose incredibili ragazzi state esagerando adesso chiudo e vado via voglio solo ricordare che il primo anno che sei venuto avevamo una squadra abbastanza giovane con alcuni ragazzi tipo Fayardo Diego Fayardo cioè tutti i ragazzi che la Serie A non avevano fatto da uno e avevamo un americano due americani bravini uno Gent Chris Gent e soprattutto Yehman Sanders che era proprio la spalla ideale per Enzo perché era l'uomo di fatica dove Enzo poteva esprimere il suo maschio però con Enzo un po' meno per Coach Vitucci che magari faceva fatica a fargli ricordare le giocate gli schemi vabbè con Yehman avevamo tanti aneddoti che noi ora sorvoliamo però con lui con Enzo abbiamo raggiunto per due volte l'Europa la Coppa Support che ci ha dato grande lustro alla nostra società io penso che di Enzo si possa parlare per ore e ore e ore ma soprattutto una cosa particolare a cui ci tengo Enzo è veramente un amico di Imola un amico di tutti i ragazzi di Imola spesso ci viene a trovare e prova tanto affetto verso di noi ma soprattutto anche verso i giovani di Imola quindi prendetelo sempre come riferimento se avete opportunità di andare a vedere le sue partite ora allena Brescia approfittatene immediatamente perché è il talento del basket italiano degli ultimi 30 anni l'ultima cosa l'ultima cosa scusate che volevo dirvi era che quelle squadre lì dove c'era Enzo riviste e anche come sensazione che avevamo noi che partecipevamo che partecipevamo alla settimana alla stagione alle partite eccetera così era era che avevamo nella squadra uno spirito un cascone uno spirito di sfida che Enzo ci comunicava anche Cristiano anche Cristiano il capitano Cristiano Fazio comunicava questa cosa e noi avevamo avevamo recepito questo spirito di sfida e avevamo il nostro il nostro metodo nell'affrontare nell'affrontare le partite nell'affrontare le cose avevamo un'irriverenza verso Bologna verso il potere costituito verso tutte queste cose che fu che fu bellissimo perché perché in un mondo dove spesso copiano tutti io mi ricordo quelle esperienze che erano invece esperienze totalizzanti ed esperienze che mi ricordo la vittoria che facciamo a Brescia alla prima di campionato scusa a Verona alla prima di campionato con tre bombe negli ultimi due o tre minuti di Enzo furono cose secondo me bellissime ma furono cose solo che con la passia la sfondatezza eccetera tu riesci a farle e in questo do un consiglio mi sento di dire ai ragazzi di guardarle per capire un po' il feeling che c'era due partiti in particolare direi che sono Kinder Bologna Terma Limola del 98 mi sono 99 e un playoff contro la fortitudo fatta a Vaffa Enzo che vincemmo e devo dire che Enzo superò ampiamente i 30 punti in entrambe le partite sono due partite storiche che se voi avete l'occasione di vedere guardare c'è molto da imparare ma soprattutto anche nell'atteggiamento al di là dei numeri che ci sono che sono incredibili l'atteggiamento proprio di questo giocatore che è nel cuore di tutti noi che alzò il livello di tutti certamente soprattutto noi che eravamo di campagna che organizzavamo delle trasferte strane scusate un po' rustiche diciamo così la trasferta è un po' rustico e direi che è ora di iniziare a far parlare Vincenzino perché hai ragione Shabba che la scaletta non va fatta però Carlo e Scema hanno preparato tante domande per Vincenzino e i ragazzi giustamente vogliono sentire la sua voce anche perché sennò si fa tardi visto che è la prima volta in prima serata sono molto domani mi sembra che non ci sia da andare a scuola quindi sono onorato anch'io Vincenzino ti lascio con Carlo e Scema che sono due nostri allenatori delle giovanili molto bravi molto diciamo che vorrebbero condurre la cosa assolutamente a vostra disposizione grazie per la meravigliosa introduzione soprattutto da parte di Shabba e Zetta che oltre a essere due persone preparate nel campo sono due amici veri per cui grazie di cuore per l'introduzione sono amici sono persone con cui ho lavorato in maniera stupenda e di cui conservo un ricordo meraviglioso ogni volta che sono giù a Imola cerco di passare a trovarli sono amici veri grazie allora Vincenzo iniziamo sono stati Zetta e Shabba bravissimi a presentarti ed era giusto che fossero loro e dato anche la vostra vicinanza a presentarti possiamo mandare al Festival Bar l'anno prossimo sono stati bravissimi bravissimi e mi unisco ovviamente io come anche penso Sam siamo onoratissimi di poterti intervistare con te questa sera avevamo pensato a qualche domandina con un percorso fotografico perché secondo me è giusto anche dare una sorta di ambientare tutto quello che hai fatto nei contesti anche per i più piccoli Sam allora intanto mi accodo ai ringraziamenti prima di tutto per la disponibilità a Enzo e niente vorremmo iniziare con delle foto e poi da lì proviamo a parlarci un po' su adesso ti chiedo prima di tutto se riesci a vedere la foto sì diciamo sono state foto migliori però insomma possiamo commentare anche questa bene allora ti chiedo allora questa è una foto dello scudetto del 91 sì una vittoria che immaginiamo sia piena di significati giusto la tua città comunque giocavi per la tua città e come vediamo purtroppo sei dovuto uscire dal campo per un infortunio e significati anche nello scontro con 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 Milano in quegli anni e anche gli anni prima se non sbaglio e volevamo chiederti un po' le tue sensazioni e e se dovessi fare un parallelo tra tra quegli anni e e gli anni di adesso cosa 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 ruberesti a quegli anni ma diciamo che innanzitutto è cambiato il mondo è cambiata la palla canestro sono cambiate tantissime cose da quegli anni però una cosa fondamentale è quello che hai detto tu nell'introduzione di quella foto è che io giocavo per la squadra della mia città ed è quello che è stata anche un po' per me quando alla fine sono stato adottato da Imola dalla città di Imola dai tifosi di Imola dalla squadra dalla società di Imola a Caserta ovviamente eravamo una squadra dove il 60% della squadra era composta da giocatori casertani per cui da da ti faccio vedere anche questa sì sono immagini ti dico per quanto rappresentano insomma il momento un po' triste perché ovviamente dopo aver lottato contro Milano per anni e non essere riusciti a portare a casa lo scudetto arrivare a nove minuti dalla fine della finale della quinta gara infortunarsi però l'importante credo che alla fine sia stata la vittoria la vittoria di un gruppo di ragazzi come dicevo di cui il 60% erano ragazzi nati e cresciuti a Caserta nel bivaio sconfiggere Milano un po' come quando Sabba ha detto prima per una piccola società all'epoca di Imola riuscire a battere la Virtus Bologna e la Virtus Bologna squadre che giocavano già in Europa sono motivi di soddisfazione per me personalmente crescere in una piccola città perché poi alla fine Caserta la posso paragonare a Imola per alcune cose e questo è anche il motivo per cui sono stato benissimo ad Imola e riuscire a sfidare le superpotenze del basket dell'epoca all'epoca era Milano poi dopo quando sono stato a Imola da giocatore erano Bologna a Roma sono motivi di stimolo e di grandissima soddisfazione per cui sono ricordi che resteranno dentro per sempre se dovessi rubare qualcosa è quello l'identità magari di una città piccolina che riesce ma il senso di appartenenza il senso di appartenenza alle provinciali alle squadre di provincia cioè appartenere a una sentirsi parte di una città come Imola una piccola realtà di provincia come Caserta di andare a sfidare delle metropoli come Roma Milano Bologna e riuscire a sconvincere e poi dopo ovviamente con Caserta nella finale Scudetto sono ricordi che resteranno per sempre sia nella carriera del giocatore o dell'allenatore ma soprattutto a livello personale sono soddisfazioni che nessuno ti potrà mai portare via grazie mille a te allora prima nell'introduzione abbiamo parlato di NBA sei stato il primo italiano a segnare punti a Toronto quindi stagione 95 96 qui in foto abbiamo lo Sky Dome dove giocavate e ti chiediamo com'era quel periodo lì in America in particolare a Toronto ovviamente in Canada dove giocavi tu e come veniva considerata la città di Toronto e il basket a Toronto allora questo vale anche un po' per i ragazzi i ragazzini che ci stanno seguendo sai loro riescono a seguire adesso seguono l'NBA leggono dell'NBA adesso c'è internet quindi possono sognare e per un ragazzino di Caserta di una piccola città del sud sognare già insomma 15-16 anni un giorno di poter arrivare a giocare nell'NBA era qualcosa di più che una semplice fantasia e invece con la forza di volontà con il desiderio il lavoro la passione ovviamente anche con una dose di fortuna perché quella ce n'è bisogno sempre sono riuscito ad arrivare dove nessuno pensava potesse arrivare mai un ragazzino figlio di un impiegato comunale di una piccola città come Caserta arrivi a Toronto arrivi a Toronto una città che era il primo anno una società una città che insomma era il primo anno nell'NBA e devo dire che la scelta è stata anche un po' forzata perché alla fine la mia scelta era caduta su Cleveland però in quell'anno ci fu il il lockout ci fu lo sciopero dell'NBA e le uniche due franchigie che potevano permettersi di firmare il giocatore erano Vancouver e Toronto per cui alla fine sai salta salta Cleveland Toronto si fa sotto e pensando anche che era una città con su 4 milioni di abitanti circa un milione di abitanti erano di origini italiane non ci ho pensato due volte ad andare a Toronto sono stato fortunato perché poi alla fine sono stato accettato molto bene l'inserimento è stato molto veloce anche se all'epoca avevi poco più di 20 giocatori non americani a giocare nell'NBA per cui è stata un'esperienza bellissima ma abbastanza dura soprattutto agli inizi grazie mille a te Vincenzo ti chiedo invece a livello proprio di inserimento di una nuova franchigia dentro il mondo NBA l'avete sentito si sentiva all'inizio c'era del pregiudizio ma no si è sentita soprattutto tecnicamente perché ovviamente essendo una nuova franchigia e poi soprattutto essendo in Canada una zona del Nord America che vive solo viveva solo di baseball e di hockey sul ghiaccio i Maple Leafs campioni per più anni dell'hockey e i Toronto Blue Jays del baseball quindi la pallacanestro sai non era non dico non era ben vista ma era poco conosciuta era anche un po' magari di ignoranza però è ovvio quando cominci a portare dei personaggi come Damon Stadmire Vince Carter e altri giocatori col passato degli anni Toronto è diventata una franchigia di primissima fascia fino ad arrivare al titolo dell'anno scorso grazie ti faccio vedere questa foto e ti chiedo la tua NBA e l'NBA di oggi a tuo modo di vedere quali sono le grosse differenze magari che hai notato nel salto e le differenze che ci sono magari adesso con i giocatori che allena adesso la mentalità a tutte queste cose qui ti chiedo qual è la differenza in questo senso qui ma allora quando sono arrivato io negli Stati Uniti ripeto il discorso atletico era la prima cosa che balzava gli occhi c'era una differenza atletica tra i giocatori non americani siamo i giocatori fuori dagli Stati Uniti ma soprattutto europei all'epoca adesso ci sono cinesi sudamericani ce ne di ogni negli Stati Uniti la differenza atletica era la differenza principale che si notava con il resto del mondo poi ovviamente il livello tecnico è cresciuto anche negli Stati Uniti mentre si è alzato poi invece il livello atletico delle altre realtà fuori dall'NBA è ovvio quindi che adattarsi non tanto tecnicamente ma alla velocità la velocità di lettura delle giocate soprattutto alla fisicità difensiva che credo sia anche una delle difficoltà principali ad oggi dei giocatori non americani è quello che ci separa ancora tanto dal mondo NBA però credo che il resto del mondo sia cresciuto tantissimo soprattutto dal punto di vista fisico dal punto di vista atletico e su questo potrebbe rispondere anche benissimo Sabba perché anche il suo modo di allenare i giocatori di oggi si rende conto il materiale che ha per le mani adesso anziché nei primi anni quando sono arrivato anche io a Imola e questo ha accorciato un po' le distanze dal mondo NBA mentre una volta c'erano soltanto i veri fenomeni che facevano la differenza come Petrovic Kukoc Raja adesso parliamo di tanti giocatori che sbarcano nell'NBA prendo per esempio Doncic e dominava in Europa e riesce a dominare anche da subito anche negli Stati Uniti ne abbiamo avuto ospite di Paolo Antonio e parlavamo proprio di questo dell'impatto fisico e sicuramente loro sono arrivati un pelo prima e quindi il distacco sono stati come dire ci hanno anticipato sotto quel profilo ovviamente come sempre ci hanno anticipato sotto il profilo atletico che poi adesso si ripropone anche qui cioè il profilo atletico diventa sempre una ha sempre un'importanza maggiore più si va avanti col tempo parlavamo di questa cosa qui sì credo che comunque nell'NBA c'è anche una differenza che sotto gli occhi di tutti ovviamente avere a che fare con atleti di colore madre natura ovviamente ha dato una fisicità importante e quindi lì c'è poco da lavorare c'è magari più da lavorare tecnicamente però ripeto io credo che con il passare degli anni anche noi al di fuori degli Stati Uniti ripeto Sabba questo lo può certificare assolutamente ci siamo aggiustati siamo cresciuti siamo migliorati siamo riusciti a produrre anche dei giocatori che non hanno solo del talento tecnico ma anche del talento fisico ovviamente una nuova generazione è migliorata la cura in campo e fuori dal campo del corpo dell'atleta e per questo sono accorciate anche le distanze con il mondo americano grazie mille prima di passare alla prossima domanda visto che adesso abbiamo la fortuna di poter vedere The Last Dance che è un po' un documentario su quell'NBA in cui giocavi tu ti chiediamo una pillola se ce l'hai ovviamente su Jordan una pillola su Jordan credo che The Last Dance sta sventrando abbastanza il personaggio Jordan anche con situazioni o aneddoti o immagini che nessuno conosceva prima ha scatenato anche abbastanza critiche alcune cose che nessuno sapeva per cui ripeto io che ho avuto la fortuna di conoscere anche persone che avevano giocato già con lui come Pete Myers che ha giocato a Pesaro in Italia che aveva giocato lì Tony Kukoc con cui ho parlato e ho avuto l'opportunità anche di frequentare un po' di volte Dennis Rodman tanti episodi li avevo già sentiti e quindi quando sono venuti fuori nei video di The Last Dance ero ovviamente già a conoscenza di alcune cose è ovvio che quando si parla di giocatori di fenomeni come Jordan povero Kobe Bryant Lebron James sono persone sono giocatori ma soprattutto sono dei personaggi per cui hanno ci sono pro e contro ci sono aspetti positivi e negativi ma hanno soprattutto una personalità talmente forte che non è facilmente digeribile o facile da metabolizzare per tanti la cosa che però caratterizza tutti questi personaggi questi giocatori di quel livello ed è così soprattutto per Jordan che è il top dei top a livello mondiale di sempre per il basket e il desiderio di vincere ad ogni costo in allenamento in una gara di tiro ovviamente in una partita e soprattutto il senso della sfida il senso della sfida Sabba ve lo può dire anche Zeta ve lo può dire che era un po' qualcosa che si collega anche quando giocavo io era complicato anche arbitrarmi nelle partite di allenamento perché il desiderio di vincere a tutti i costi mi portava anche ad essere abbastanza duro e a scontrarmi anche con i compagni a volte anche con lo staff tecnico ripeto quindi tutto ciò che si vede di Jordan è tutto abbastanza vero c'è ovviamente anche un po' di Hollywood intorno diciamo così di spettacolo di scenografia per vendere il prodotto però ripeto il 90% di ciò che si vede è il vero Jordan dopo Toronto e gli altri anni di contratto tre mi sembra correggimi se sbaglio esatto dopo sei tornato in Italia nonostante avevi comunque dimostrato di poter competere e stare a quel livello prima e dopo questa foto fa un po' vedere due dei tuoi grandi rivali hai hai dato vita a delle battaglie che sono state veramente epocali ti chiediamo qual è stato il tuo duello preferito e che vorresti rigiocare ho avuto la fortuna di giocare contro tantissimi grandi giocatori riuscire adesso ad andare ad individuare un giocatore contro cui mi piaceva giocare sarebbe riduttivo perché veramente ho avuto la fortuna di giocare non solo in America anche qui contro giocatori clamorosi nella foto ho emesso Carton Myers e Sasha Danilovic due giocatori contro cui tra l'altro ho disputato delle partite clamorose delle partite incredibili fortunatamente alcune di queste partite si sono verificate proprio mentre ero a Imola e abbiamo invece a posto esatto allora Sab e Z vi possono dire che io amavo la sfida quindi più era alta la posta in palio più era difficile pericolosa accattivante la sfida davo il meglio di me infatti diciamo che per quanto erano bravi Danilovic e Carton Myers qualche ripassato da me l'hanno preso anche loro grazie a voi allora ti chiedo hai stravinto ultimamente il contest delle leggende di Imola e per questa domanda ti vogliamo dare carta bianca puoi scegliere tu un aneddoto un ricordo che hai piacere di condividere davvero qualsiasi cosa dentro fuori dal campo qualsiasi cosa carta bianca ma ci sarebbe da fare un libro soprattutto se Z e Sab cominciano ad ascoltare ciò che è successo in quei in quei cinque anni a Imola credo che l'episodio più bello è quello di al terzo anno dopo aver fatto due anni dove avevo vinto il capo cannoniere il miglior giocatore del campionato diciamo che non avevo non più nulla da dimostrare però io avevo bisogno di nuove sfide che è stato un po' quello che mi ha fatto lasciare anche l'NBA io i primi tre mesi non giocavo mai nell'NBA gli ultimi due tre mesi ho iniziato a giocare tanto delle ottime prestazioni sono una persona che poi quando si toglie degli sfizi ha bisogno di nuovi stimoli ha bisogno di migliorare di crescere di cambiare faccio fatica a restare fermo e avevo deciso il terzo anno di contratto di Imola avevo tre anni di contratto avevo deciso di andare via ovviamente lo sapeva tutta la città da Domenicali a Cristiano Fazzi Zeta Sabba lo stesso Vitucci e andiamo a Venezia ad incontrarci con le Studiantes Madrid con il presidente delle Studiantes Madrid con il con l'allenatore delle Studiantes Madrid a Venezia il ristorante è una figata bellissimo loro entusiasti di conoscere esposito tutto finisce la cena e loro mettono giù tre anni di contratto a una cifra clamorosa all'epoca mi restava di tornare a Dimola torno a Dimola con il mio procuratore nella stessa serata comunichiamo ovviamente a Giampiero Domenicali che ufficialmente che insomma era finita la storia a Dimola ovviamente Sbezzi il procuratore era contentissimo anche perché la sua commissione sarebbe stata altissima andando alle Studiantes Madrid e tra l'altro dovevo andare il giorno dopo dovevo andare a Madrid quindi comunichiamo a Domenicali che è chiusa la storia a Dimola torniamo a Dimola per dormire e ovviamente il mio legame con Dimola ovviamente c'era il presidente delle Studiantes Madrid e l'allenatore che avevano già chiamato a Madrid avevano prenotato il bolo per il giorno dopo ed era pronta la conferenza stampa il pomeriggio alle tre e mezza a Madrid io però torno a casa e quella notte non riesco a dormire il legame con Imola con la città di Imola con le persone lo dico non perché sono lì le persone come Sabba Zeta Massari lo stesso Frank Vitucci all'epoca e Giampiero Domenicali io non riesco a dormire non riesco a dormire quella notte e questa immagine è clamorosa poi ne parleremo magari allora a casa con me era tutto pronto per partire allora andiamo a dormire il mio agente Riccardo Sbezi dice dormi che domani è una giornata impegnativa ovviamente non dormo alle 5 di mattina avevamo l'aereo alle 8 e mezza di mattina per andare a Madrid alle 5 di mattina mi alzo e vado da Sbezi e gli dico lo sveglio e gli dico ascolta non se ne fa più nulla e lui dice torna a dormire va che tra 3 ore dobbiamo partire che c'è l'aereo ci svegliamo alle 8 e io gli confermo che non si parte non si parte si resta a Imola quindi puoi immaginare il casino che succede che figuraccia chi adesso chiama il presidente di Madrid io non posso più sbarcare in Spagna dice lui mi hai rovinato e firmo per altri 3 anni a Imola ovviamente con Domenicali che credo piangi ancora sono 11 anni che piangi ancora dopo questa notizia e tra l'altro firmai a Imola un contratto in bianco Giampiero dice guarda qui la situazione economica e non è una novità insomma Imola non era brillantissima ho fatto guarda non mi frega nulla ho fatto pur di restare a Imola metti tu una cifra giù io sto bene a Imola e la mia città resto qui a Imola sto bene sto bene qui e quindi questo qua per farti capire il legame con Imola con Giampiero e con le persone due delle quali sono adesso qui in chat con noi e perché sono rimasto legato a Imola e la città mi vuole ancora bene rinunciare alle studiantes Madrid Sbezi mi riparlò dopo sei mesi è ancora il mio procuratore però mi ha riparlato dopo sei mesi per questa incazzatura e non ha più firmato nessuno in Spagna tra l'altro ma no io ci tornai qualche anno ci tornai qualche anno dopo a Gran Canaria lui con la figuraccia che ha fatto no 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 tanto alla fine quello è business per cui gli agenti alla fine le incazzature passano soprattutto quando firmi gli assegni si va avanti lo stesso si sistema tutto si sistema tutto Vincenzo sulla tua carriera di allenatore si potrebbe stare a parlare un giorno intero su Zoom ma il tempo è quello che è vogliamo parlare della tua seconda vita nel basket quella da allenatore e ti chiediamo appunto si magari se questa foto la spostiamo ne mettiamo altre so che ce ne avete tante di capositi ti chiediamo appunto cosa ti porti dietro dalla tua carriera da giocatore quando alleni allora tantissimo tantissimo ovviamente io ho avuto la fortuna di giocare per allenatori e che mi hanno dato la possibilità di quando ero in campo anche di gestire un pochino la squadra Frank è soprattutto stato uno di questi quindi alla fine ero un po' come un allenatore in campo e il talento che avevo da giocatore mi ha permesso di riuscire ad avere l'occhio di riconoscere il talento subito nei giocatori che poi aveva scegliere sia che siano italiani o che siano stranieri che siano stranieri è un grandissimo vantaggio il fatto di aver giocato tanti anni ed aver avuto la possibilità mentre eri in campo di gestire anche situazioni tecniche mi ha fatto arrivare poi dopo nella fase di allenatore preparato soprattutto mentalmente nel leggere e prendere delle decisioni in poco tempo perché quando giocavo dovevo fare entrambe le cose ed una cosa che ho imparato comunque parlando con gli allenatori che ha avuto ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori da Marcelletti da Frank Lutucci a Sergio Scariolo a Ettero Messina a Bujosevic questa gente così e che una volta smessa la carriera dovevi mettere praticamente da parte ciò che sei stato da giocatore e credo che il fatto di essere stato un talento veramente importante è la prima cosa che ho dovuto capire che dovevo mettere da parte che ciò che facevo io in campo alcuni degli allenatori poi quando li rincontrati con tempo hanno detto meno male quello che facevo io in campo diciamo ero molto genio e sregolatezza però avevo un certo tipo di talento la cosa più suiva sarebbe stata quella di provare a vedere nei giocatori che allenavo le cose che facevo io invece la cosa che ho dimenticato immediatamente l'ho messa da parte e ho cercato di mettermi a disposizione dei ragazzi che alleno qualsiasi sia la loro capacità il loro talento a completa disposizione per il bene del giocatore e quando hai deciso di diventare allenatore? quando ho finito dopo i due anni a Dozzano mi era stata data la possibilità di allenare l'avrei fatto anche a Dozzano poi si fesce avanti Trento che era una società emergente al primo anno in Serie B e volevo allontanarmi un po' dall'Emilia ad Emilia Romagna fare un'esperienza fuori come prima esperienza di allenatore feci qualche settimana da allenatore post stagione a Dozzano mi resi conto feci venire tra l'altro ad un allenamento ad un mio allenamento Franco Marcelletti a darmi un'occhiata lui all'epoca allenava il Reggio Emilia dico vieni a darmi un'occhiata per vedere se ho le capacità di poter diventare un allenatore un giorno e dopo quelle due ore di allenamento lui disse non ci pensare due volte se sei convinto di non giocare più segui questa strada l'altra cosa che è una roba che ho imparato anche da da Sabba parlando con Sabba tante volte perché con Sabba aveva un rapporto veramente unico fraterno prima degli allenamenti durante gli allenamenti dopo gli allenamenti lui mi aveva anche fatto capire che il giorno in cui Enzo non puoi essere più Enzo e ti pesi entrare nello spogliatoio nel mettere le scarpette nel mettere su i pantaloncini per entrare in mezzo al campo tu devi essere Enzo in mezzo al campo il giorno in cui non ti senti più Enzo lascia stare e fai qualche altra cosa e questo qui è qualcosa che mi ha lasciato Sabba dentro e dopo le due allenate di Ozzano io avevo capito nelle ultime settimane della stagione di Serie B che cominciavo a far fatica veramente entrare in uno spogliatoio dovermi vestire scaldarmi allenarmi non mi divertivo più a giocare ed era ora di fare qualcosa altro grazie Vincenzo e questa figura nuova ti riesce a dare sensazioni magari diverse ma comunque forti come quelle da giocatore è un'attività non lo voglio dire un lavoro è un'attività completamente diversa anche perché ti porta via tantissime energie nervose io credo di avere la fortuna di 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 aver capito da subito che un po' quello che ho detto prima che dovevo dimenticare quello che ero stato da giocatore e la prima cosa che cerco di trasmettere ai giocatori io gli voglio dare qualcosa che gli resti dentro per il resto della carriera per la vita quindi essendo stato allenato anche da grandissimi allenatori a me piace di essere anche un po' come un genitore per i ragazzi oltre che solo un allenatore essere un istruttore ho avuto la fortuna di essere stato allenato da grandi allenatori e anche da grandi istruttori per cui a me da grandissima soddisfazione vedere sia un giocatore crescere tecnicamente ma un giocatore crescere come uomo vedere che fa delle scelte nella vita fuori dal campo commette i meno errori possibili è bravo di investire su se stesso sul suo fisico gestire anche la sua posizione economica e mi da enorme soddisfazione al di là anche del canestro o della vittoria in mezzo al campo perché come dico sempre ragazzi un giorno il pallone non rimbalzerà più quindi vuol dire quando finisci la carriera è più importante che si ricordino di te per l'uomo che sei stato più per i canestri che hai fatto quello per me è fondamentale e quindi cerco di trasmetterlo ai ragazzi che è fondamentale è importantissimo il giorno in cui rientri da un palazzetto da spettatore il giorno in cui ti rivedi con persone e compagni con cui hai lavorato loro ti apprezzano per l'uomo che sei stato e non solo per il campione che sei stato in mezzo al campo questo è quello che cerco di trasmettere oggi insieme ovviamente alle nozioni tecniche ai miei giocatori questo è un grande è un grande ti faccio una domanda un po' diversa hai iniziato prima dicendo che la tua esperienza da giocatore ti ha aiutato anche nel selezionare i giocatori poi però sappiamo che tra le qualità di un allenatore ci deve essere anche quella di comunque di creare un sistema che si cucia addosso ai giocatori ma se dovessi scegliere una delle tante caratteristiche che una squadra di Enzo deve avere per forza cioè Enzo entra in palestra e sai che la sua squadra quella cosa la farà sicuramente è un requisito che ha sicuramente qual è? che sia un allenamento che sia una gara di tiro che sia una partita ufficioso ufficiale in campo in campo si va solo per vincere il vecchio detto che dicevamo una volta questa è un po' la mia mentalità ovviamente non è che il Vangelo l'importante è partecipare per me non esiste tu vai in campo per vincere mentalità tanto la forza che hai dentro per cercare di vincere sempre è quello che ti porta poi a migliorare il fatto di aver perso che serve per crescere ok? ti devi spingere a migliorare e per poter migliorare tu devi avere dentro il desiderio di voler vincere sempre se tu hai in mezzo al campo per partecipare non avrai mai dentro quella che si dice lì da noi la fotta che ti spinge a crescere a migliorare ogni giorno io anche quando sono rientrato in campo a 44 anni che ho lasciato la panchina Imola per entrare in mezzo al campo lo si vede anche dai filmati di quelle partite io c'ero al tuo ritorno io impazzivo a vedere che un avversario ci segnava in pace o che perdevi la partita per me anche l'allenamento a 44 anni doveva essere ci doveva essere una competizione altissima lo spirito di competizione il desiderio di vincere ma questo deve essere anche nella vita nel lavoro non solo nello sport è quello che ti spinge ad essere migliore ma anche come persona ogni giorno cercare di fare qualcosa di buono non sederti è quello che ti fa diventare una persona migliore un giocatore migliore un impiegato migliore io ho questo desiderio che ho sempre avuto dentro di cercare di essere il migliore non solo come giocatore ma anche come persona ed è il riconoscimento più bello poi quando ti trovi a rivedere amici anche di 30 anni fa grazie mille Vincenzo io ovviamente per motivi di età dal vivo le tue partite le ho potute vedere solamente quella stagione 2013-2014 in cui si è tornato a giocare volevo prima di passare a quella foto che vedi volevo chiederti qualcosa sulla foto precedente della stagione tua da allenatore in cui ti troviamo al Palaruggi con Saba se ci racconti qualcosa di quella stagione iniziata come allenatore e finita come giocatore diciamo è stata una stagione di sofferenza di grandissima sofferenza d'altra parte i due punti una vittoria in una stagione intera insomma credo non abbiano bisogno di grossissime spiegazioni però proprio dimostra probabilmente anche il legame forte che mi legava alla società alla città di Imolo a un certo punto quando abbiamo cominciato a perdere i pezzi i giocatori per vari motivi senza andare nel dettaglio io mi sono sentito il responsabile di aver chiamato anche dei giocatori in quella squadra il responsabile della situazione tecnica e non e ho detto io posso fare soltanto una cosa anche se non sono più l'esposito di dieci anni fa mi rimetto magliette e pantaloncini e vado in campo è ovvio che il cuore di alcune persone tra cui Zetta Sabbe tantissime delle persone spingevano per fare una roba del genere anche se io sapevo che alla fine più di tanto non potevo fare però mi ricordo un aneddoto incredibile è stato quello di domenicali perché a un certo punto facevamo allenamento anche in otto persone non c'erano persone per arrivare a dieci mettevo Federico Vecchi o Pattuelli ad allenare o ad arbitrare e mi mettevo in mezzo con i giocatori a giocare anche se non avevo voglia a un certo punto Giampiero dopo il secondo terzo canestro e avevo 44 anni da 4 anni giocavo solo a golf Giampiero dice va bene che siamo in nove ma il decimo giocatore volendo ce l'avremmo già diciamo che mi sono fatto intortare da Giampiero un po' dalle chiacchiere così e poi l'affetto che avevo anche verso Giampiero e ho detto Giampiero se devo fare questo per Imola lo faccio quindi scarpette magliette pantaloncini mi sono strappato tre volte in quattro mesi purtroppo purtroppo però diciamo qualche bello episodio anche qualche bella giocata e qualche soddisfazione ce la siamo tolta lo stesso partite ne abbiamo in mente poche anzi nessuna però insomma se proprio dovevo finire così in mezzo al campo l'ho fatto molto volentieri per Imola ma io ti voglio fare i complimenti per quella stagione perché io mi ricordo che venivo a vedere e da quando sei tornato te la squadra era un'altra cosa cioè a livello proprio di voglia di io vedevo questo giocatore che aveva 44 anni e andava in doppia degli altri ne aveva più voglia degli altri e gli dicevo ma come è possibile cosa c'ha dentro questo poi dopo era rampante cosa avessi dentro grazie grazie tanto Carlo ti voglio raccontare un aneddoto di quell'anno per far vedere anche lo spessore di come abbiamo detto di uomo di Vincenzo e io facevo parte del gruppo under 19 quell'anno e dopo tutto questo caos che ovviamente influenzò anche noi perché il nostro allenatore era vecchio insomma influenzò tutti e noi arrivamo alle finali nazionali elite e Enzo ci chiamò e ci disse va bene allora se vincete tutte e tre le partite dell'Interzona vi pago la cena e mi ricordo che mantene la promessa ci portò a tutti a mangiare e noi quelle partite ce le ricordiamo anche perché Enzo ci chiamò quel giorno lì fa capire lo spessore del personaggio grazie davvero grazie questa non me la ricordavo mi ricordavo che erano rimasti sorpresi anche i ragazzi della prima squadra quelli più giovani che non erano mai andati fuori con l'allenatore all'inizio ragazzi abituatevi come dovete avere un rapporto vero l'importante è che in mezzo al campo date tutto e a voi vi avevo promesso quella roba e ho mantenuto la promessa perché è stato un motivo di soddisfazione grazie mille Carlo direi che possiamo partire con le domande del pubblico sì partiamo allora Luca Sabbioni ti chiede come sei stato accolto a Toronto e se c'erano degli stereotipi sugli italiani un po' abbiamo già risposto visto che Toronto ha tante influenze italiane ma anche multietnica come città insomma se c'erano degli stereotipi magari anche fuori fuori da Toronto sugli italiani ma assolutamente no come ho detto prima sono stato fortunato di capitare in una città di 4 milioni di abitanti di cui circa un milione era di origini italiane super anzi quando non veniva utilizzato i primi mesi c'erano anche delle polemiche da parte del perché ero stato poi il primo giocatore firmato dai Toronto Raptors su quell'anno c'erano state anche un po' di polemiche da parte dei giornalisti sul fatto che la popolazione italiana sia anche un po' sentita presa in giro firmare un giocatore italiano magari l'avranno vista un po' come un'operazione mediatica un po' una furbata diciamo così per cercare di attirare l'italo-canadese avvicinarlo alla palla canestro e poi dopo ovviamente quando ho iniziato a giocare ho fatto anche delle ottime prestazioni ovviamente ci sono rivalzi su quel discorso dicendo avete visto avete aspettato fin troppo a buttarlo in mezzo al campo chiedere informazioni a New York 18 al Madison 18 la gente parla di quella partita lì ma ci sono state altre partite con Seattle con New Jersey Portland altre partite che comunque però è ovvio ripeto se la gente ti va a paragonare quello che fanno adesso i vari Gallinari Bellinelli o Bargnani quando è arrivato nell'NBA però parliamo di un'altra NBA di un'altra domanda di Paolo Irti chiede in allenamento nelle gare di tiro tra Gentile Sposito e Oscar chi vinceva? io ero molto bambino però non so se il mio talento dal punto di vista di tiratori ero un realizzatore quindi ero in grado di segnare in qualsiasi modo parliamo di Oscar che è uno dei più grandi tiratori al mondo di sempre di sempre quindi non c'era storia Oscar ci dava la paga facile a tutti noi Gentile finiva dietro di me facile però con Oscar non potevi competere tiratore tiratore di livello mondiale a proposito di quella caserta lì ti volevamo chiedere qualcosa sulla finale dell'89 contro Petrovic come è stato essere in campo con lui ma allora io ti dico lì praticamente è stata una gara di uno contro uno Oscar contro Petrovic perché uno ne ha fatti 60 uno ne ha fatti 42 credo quindi una partita da 200 punti 120 ne hanno fatti quei due 115 quindi io ero un ragazzino avevo veramente 19 anni partì in difesa su di lui diciamo che oltre a non essere il mio forte la difesa credo che quella giornata lì la difesa non sia stata il forte di nessuno perché è presso 62 punti e quindi so che poi Marcelletti alla fine ha provato dell'agnello ha provato Gentile ha provato anche Polesello da metterglielo addosso non sapeva cosa fare però è stata una partita clamorosa però a 19 anni arrivare a fare una finale di Coppa delle Coppe credo ripeto poi per la squadra della tua città poi contro il Real Madrid perché aveva Petrovic però aveva dei giocatori Biriukov i fratelli Martin una roba una roba una roba indimenticabile sicuramente Edoardo Morgardi che è un nostro bimbo del mini basket ti chiede allora quando hai capito che avresti fatto del basket la tua vita chi è il tuo compagno di sempre e la tua partita indimenticabile allora partiamo dall'ultima così dopo mi ricordo le altre tutte e tre le domande la partita indimenticabile te ne posso dire due sicuramente quella del Madison Square Garden fare 18 punti in 21 minuti per una persona che è un giocatore che fino ad allora era stato un po' snobbato poco utilizzato poi al Madison Square Garden è stato motivo di soddisfazione compagno indimenticabile ne ho avuti tantissimi sicuramente a Dimola ti posso nominare Cristiano Fazzi ma non perché era casertano perché era persona personaggio giocatore di primissima fascia giocatore anche magari un po' che non ha ricevuto tutto quello che meritava per un giocatore che era importante esposito magari negli anni di Imola per un giocatore che ha fatto la differenza dovunque è andato è sempre stato a disposizione dei compagni ha reso migliori gli altri giocatori quindi una persona ed un giocatore di primissima fascia la prima domanda era invece la prima domanda era quando hai capito che avresti fatto del basket la tua vita allora avevo provato io ho iniziato a giocare a pallacanestro a cinque anni avevo provato diciamo dai cinque ai dieci anni ho provato a fare nuoto ed ho beccato la bronchite dopo pochi mesi ho provato a fare calcio ed avevo sempre mali ai tendini mi hanno messo in un campo di pallacanestro e facevo già trenta e quaranta punti da bambino ho detto secondo me è meglio che rimaniamo su questo binario diciamo che insomma la carriera mi ha dato ragione alla fine lasciando perdere il calcio e il nuoto che non facevano per me scelta facile alla fine Vincenzo perché devo dire la verità il calcio piaceva il calcio mi piaceva non so se Sab è ancora collegato facciamo un amichevole allo stadio di Imolo una volta contro una selezione dei giocatori non so cantanti personaggi famosi allenati dal mister dell'Imolese molto colpito del mio lavoro sulle palle inattive quindi mister Magrini che allenava credo quella formazione in una partita in beneficenza poi il sabato ci abbiamo scherzato su per degli anni su mister Magrini e mi diceva diablo ti vedo molto bravo sulle palle inattive però ha fatto meglio lasciare perdere il calcio e il nuoto lascia stare meglio la palla canestro sicuramente sì e anche in chat ci dicono santa bronchite non possiamo che essere d'accordo ti facciamo altre due domande poi ti liberiamo ti lasciamo i ringraziamenti di Z ti chiede Filippo Gulinelli perché è il diablo e cosa preferisci tra allenare e giocare e quali differenze ci sono allora anche qui partiamo da sotto allora giocare tutta la vita giocare tutta la vita perché hai la possibilità di esprimere il tuo talento e di sfogarti in mezzo al campo e poi soprattutto dopo devi pensare soprattutto alla tua testa e non devi metterti a controllare altre 20 situazioni hai la possibilità di dimenticare dopo l'allenamento dopo la partita io meno anche da giocatore dico la verità ciò che era accaduto invece da allenatore è devastante perché non ti godi la vittoria ti incazzi per la sconfitta e un minuto dopo la partita devi già ripensare a come sistemare le situazioni tecniche come dover parlare con i giocatori al prossimo allenamento e convocare subito il preparatore atletico per capire quali sono stati i problemi parlare con i tuoi assistenti diciamo che da giocatore è molto più light molto più leggero sia il vivere la sconfitta che è anche la vittoria riesci a godertela anche di più quindi però adoro allenare devo dire la verità che adoro allenare ho avuto la fortuna di vincere tanto nonostante allenassi spesso delle squadre che insomma non avessero obiettivi clamorosi siamo sempre andati al di là dei nostri obiettivi è stato così a Pistoia è stato così a Sassari anche se è finita prima l'avventura ed è stato così anche a Brescia quindi molto soddisfatto della scelta che ho fatto anche perché insomma visto gli infortuni quando sono rientrati in campo a 44 anni era ora di smettere veramente l'altra domanda era perché il soprannome il Diablo il Diablo perché questo soprannome è stato dato quando sono arrivato sono arrivato a Bologna perché a Caserta non era ancora arrivato il soprannome ogni tanto mettevano qualche nickname però a Bologna diciamo dove sono stati due anni in cui le giocate diciamo diaboliche ma anche gli atteggiamenti diciamo un po' forti diabolici è un po' spontaneo sì sì a questo nome è piaciuto ed è partito e mi è rimasto affibbiato addosso devo dire che mi piace anche se adesso da allenatore ovviamente il Diablo non esiste più però in mezzo al campo oppure quando ti rivedi con delle persone con cui hai legami forti anche tipo Sabba o qualcuno dei personaggi che c'era all'epoca compagni di squadra da Romboli a Gianluca Castellari il massaggiatore eri sempre Diablo Diablo anche con 2B 3B oppure Diavolo quindi mi va benissimo Penso Alessandro Matteucci invece ti chiede una roba un po' più tecnica quanto tempo dedicavi al tiro da giocatore e quanto ne dedichi ora da allenatore Allora avevo la fortuna di essere un buon tiratore e quindi sul lavoro di qualità del mio tiro c'era poco da fare ma c'era da fare anche tanta quantità Saba ne sa qualcosa Zeta ne sa qualcosa finivamo gli allenamenti erano lì a passarmi il pallone non dico delle ore ma sempre ogni tanto Saba provava a lasciare il compito ad un giovane in casa dei ad un giovane però si incazzava Saba subito perché diceva il pallone si passa così e Saba l'aveva preso da Steve Bart perché i grossi realizzatori volevano tirare in una determinata maniera volevano il pallone in un certo modo quindi io facevo tantissima quantità e un po' meno qualità perché grazie a Dio le mie mani erano discrete adesso da allenatore dedico tantissimo tempo agli esercizi di tiro dove però curo molto di più la qualità perché giocatori con le mani buonissime non ci sono e quindi prima di arrivare alla quantità devi lavorare più di qualità cercare di mettere a posto la tecnica i piedi le mani scegliere le posizioni poi una volta che hai imparato il meccanismo per bene inizi a allenare su della quantità però dedico almeno due pezzi dell'allenamento che sia inizio settimana o fine settimana al lavoro di tiro e almeno una volta a settimana al di là delle capacità del giocatore una seduta solo di tiro di tanta quantità grazie mille Vincenzo ti facciamo un'ultimissima domanda proprio flash e ti facciamo vedere la foto di un giocatore che dovresti conoscere che noi a Imola conosciamo bene Tommaso Marangoni il nostro ragazzo che è insomma nato e cresciuto qua che tu hai avuto l'opportunità di credo anche di allenare in prima squadra ogni tanto ti chiediamo se c'è qualche giovane interessante che ti va di segnalarci oltre a Tommaso ma credo che ci siano tanti giovani in giro per l'Italia allora Tommaso è un buonissimo giocatore quest'anno ha avuto purtroppo zero possibilità di lavorare con noi perché ha avuto due infortuni anche che l'ha tenuto fuori dal campo quindi giocando noi anche l'Eurocup che siamo andati avanti per tanto tempo riuscire ad inserire un giocatore che secondo me tecnicamente può partecipare agli allenamenti aveva bisogno di inserirsi gradualmente fisicamente all'interno della prima squadra dove il livello fisico è molto competitivo e purtroppo i due infortuni non gli hanno permesso di inserirsi con noi e non è mai riuscito a lavorare con noi Brescia recluta un reclutamento discreto anche a livello giovanile abbiamo un buon settore giovanile è ovvio che io quando l'opportunità di poter inserire un ragazzo anche in prima squadra hai la possibilità di giocare qualche minuto l'ho sempre fatto però ovviamente quando inizi a partecipare a competizioni importanti come l'Eurocup e cominci a viaggiare nelle parti alte della classifica alcune volte non hai né il tempo e le partite sono talmente ravvicinate come punteggio fai fatica a riuscire a inserire in dei momenti della partita dei giocatori giovani però noi abbiamo dei giocatori interessanti a Brescia ma credo che nei prossimi anni anche in giro per l'Italia i settori giovanili potranno tirare fuori dei giocatori interessanti alcuni già giocano in Serie A2 spero che magari con qualche modifica del regolamento nei prossimi anni diano la possibilità a qualche ragazzo di mettersi in mostra così come è stato anche per noi con un ragazzo giovane che ha avuto acquisto e agli inizi come Tommaso la Quintana e si è ritagliato uno spazio importantissimo anche quest'anno qui da noi tra l'altro avete vinto come società mi sembra la classifica dei minuti giocati dei giovani può darsi i giocatori italiani i giovani under 25 siamo arrivati terzi però abbiamo stravinto la classifica dell'utilizzo dei giocatori italiani perché poi i giocatori anche come Abbas che sembra un giocatore il cui nome gira da tanti anni o anche la Quintana sono comunque i giocatori giovani invece spesso e volentieri anche il posto in Quintetto perché lo meritavano e perché sono ragazzi che comunque hanno dimostrato voglia di vincere e di voler crescere nelle settimane di allenamento grazie mille Vincenzo Enzo ne approfitto per farti prima di tutto i complimenti per la stagione che purtroppo si è conclusa prima per questo virus e poi ti lascio a Z per i ringraziamenti finali e ne approfitto anche per ringraziarti ovviamente di nuovo per la disponibilità è stato un grande piacere grazie a voi grazie a voi per le presentazioni la fluidità delle domande e l'affetto che avete dimostrato anche nel commentare determinate situazioni grazie è andato via Z no? no sono qui allora volevo però preoccupato alle 10 Z ci può stare che gli viene la pioggia in effetti hai ragione no intanto volevo ringraziarti per gli ottimi messaggi che ci hai lasciato soprattutto per i ragazzi e anche oggi come sempre hai dimostrato la grande passione che hai verso questo sport ma soprattutto l'umiltà con cui affronti tutte le tue situazioni sia a livello sportivo ma anche umano perché tante cose di oggi sono state penso importantissime verso i ragazzi e a nome della società dell'international ti faccio i ringraziamenti ma soprattutto un grande bocca al lupo per la tua carriera che la meriti completamente tutta 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 grazie Enzo grazie a voi grazie Zetta grazie Sabba grazie di vedervi il prima possibile giù a Dimola e fare delle chiacchiere dal vivo che penso ne abbiamo bisogno un po' tutti e poi se c'è la possibilità di passare a un vostro camp o anche vediamo come si metterà l'estate o a qualche vostro allenamento e sapete che avete la mia totale disponibilità soprattutto per l'affetto che mi lega a Dimola e a voi due veramente un affetto fraterno grazie grazie a te grazie 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 a tutti buona serata a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 arrivederci